Che cosa c'è che non funziona nel pessimismo? La cosa principale che non funziona nel pessimismo è il fatto che si può creare il pessimista una realtà negativa e vive anche male la realtà positiva, perché diciamoci un po' le cose come stanno, delle fregature tra virgolette nella vita possono prenderle tutte, i pessimisti e gli ottimisti. La differenza è che l'ottimista perlomeno vive bene tra una fregatura e l'altra, il pessimista vive male, quindi fondamentalmente il pessimista vive male anche quando potrebbe vivere bene. Questo è il primo punto per cui è meglio evitare il pessimismo e i pessimisti. Il secondo punto è che comunque il pessimista genera costantemente pensieri negativi e i pensieri negativi non sono pensieri a sé stanti fine a sé stessi, ma producono una realtà e influiscono negativamente anche su tutte le persone che vengono in contatto con un pessimista, perché un pessimista potremmo dire è una fonte inquinante, una fonte inquinante del pensiero ovviamente. E questo pensiero inquinato che entra in circolo potrebbe inquinare pensieri sani, pensieri ottimisti. Ovviamente il pensiero positivo, il pensiero ottimista fino a sé stesso ha poca utilità, soprattutto se non proviene dal profondo, perché tutto ciò che proviene dal profondo ha un significato di creazione della realtà. Tutto ciò che è superficiale è semplicemente la punta dell'iceberg e non produce nulla. Perlomeno però potremmo dire che non fa danni. E poi allenarsi ad avere pensieri positivi, soprattutto quando viviamo degli stati emozionali, fa sì che i pensieri positivi inizino a radicarsi dentro di noi. In effetti è importante avere dei pensieri positivi in funzione dello stato emozionale. È un po' come se ci fosse un'equazione, il prodotto dell'intensità dello stato emozionale per il numero di ripetizioni del pensiero positivo produce un risultato pari appunto a questo prodotto. Quindi più lo stato emozionale è alto e più è alto il numero di volte che immettiamo dentro di noi e fuori un pensiero positivo più potente, più penetrante è il risultato che otteniamo. Ma lo stesso vale anche sul negativo. Se il pensiero anziché essere positivo è negativo e lo stato emozionale è alto, creiamo un'egregola fortemente negativa. E questa egregola fortemente negativa circonderà noi e circonderà gli altri. E genererà quindi un alone di negatività che se per caso viene, come dire, ribaltato e riproposto da altre persone, continuerà a crescere, a succhiare energia. Perché i pensieri negativi succhiano proprio energia dalle persone, le lasciano spostate, senza motivazioni, apatiche. Per cui pessimisti e pessimismo no grazie. Se uno si sente pessimista deve sapere che può sempre cambiare, perché tutto parte all'inizio fu il verbo, quindi tutto parte dal pensiero, tutto parte dalle prime vibrazioni. Quindi iniziamo a mettere un siero antiveleno al pessimismo. L'unico siero antiveleno al pessimismo può essere l'ottimismo, ma realmente sentito, realmente percepito, imparando a vedere il positivo in qualunque cosa che ci capiti. Perché in qualunque cosa ci può essere un qualcosa di positivo, senza arrivare, diciamo, agli illuminati che riescono a vedere aspetti positivi anche nella sofferenza. Questo richiede un percorso particolare. Però possiamo sicuramente migliorare quella che è la nostra situazione di vita, migliorando la qualità dei pensieri che abbiamo. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.